Sangue in pieno centro storico a Pesero. Questa mattina, martedì 21 febbraio, attorno alle 10 di mattina, è stato trovato il corpo senza vita di un 27enne di Pesero. La vittima si chiama Pierpaolo Panzieri. Parliamo di vittima perché si parla di presunto omicidio sul quale stanno indagando squadra mobile della polizia, polizia scientifica, arrivata anche da Ancona e da Bologna. Fatto di sangue che è avvenuto al numero civico 19 di via Gavelli, piccola via chiusa del centro storico di Pesero, a pochi passi dal conservatorio Rossini. Un'abitazione, quella del civico 19, nella quale Pierpaolo viveva da poche settimane. Un contratto d'affitto iniziato proprio nel mese di febbraio. Il ragazzo si era trasferito da Baia Flaminia. Ragazzo che lavorava nell'azienda di famiglia a Vallefoglia. A trovarlo proprio il fratello che, non vedendolo arrivare al lavoro, si è precipitato a casa per trovare sue notizie. E poi la macabar scoperta. Il corpo senza vita del ragazzo, classe 1995, riverso in una pozza di sangue. Indagini tuttora in corso. Si sta cercando una presunta arma da taglio con la quale sarebbe stato effettuato questo omicidio. Ricerche ovunque, anche sul tetto, attraverso l'ausilio dei vigili del fuoco. I rilievi della polizia scientifica sono in corso. E poi, naturalmente, è caccia l'autore del gesto attraverso le indagini della polizia coordinate dal sostituto procuratore Silvia Cecchi. Questa mattina è stata presto scartata l'ipotesi del suicidio alla luce delle ferite d'arma da taglio rilevate sul corpo di Pierpaolo. Ben 13 i fendenti con cui il presunto omicidio avrebbe colpito il 27enne fra torace e schiena. Al momento la polizia sta sospettando di un trentenne conoscente di Pierpaolo e si è messa sulle sue tracce. È molto probabile che l'assassino abbia trascorso la serata in casa con Panzieri, vista l'assenza di segni di effrazione all'ingresso dell'abitazione e poi la situazione è degenerata per motivi ignoti. Indizi che sono stati rilevati dopo che sono stati ascoltati i genitori e i familiari, così come i conoscenti convocati in questura per avere un quadro della situazione che possa dare elementi utili a comprendere retroscena che possano aver portato al delitto. La notizia dell'omicidio si è sparsa repentinamente questa mattina in centro storico dove sono accorsi diversi amici della vittima. Qualche retroscena è emerso e proprio Pierpaolo Panzieri aveva invitato alcuni di questi ragazzi sabato a cena nella sua abitazione. Poi un invito declinato sul quale era rimasto appunto questa situazione sospesa. Questo è però solo uno dei tanti elementi al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire la rete di rapporti che possa aver portato a questo tragico fatto di sangue nei confronti di un ragazzo come Pierpaolo Panzieri che lavorava a Montecicardo in un centro per materiali edili e che, va ricordato, era incensurato e senza precedenti penali.